E' con immenso piacere che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito della presidenza italiana della strategia europea per la Regione Alpina e USALP, ospita in questi giorni questo evento Smart Village. Sono lieto che un appuntamento di calibro così rievante e internazionale venga ospitato in una delle località turistiche più rinomate della nostra Regione e delle Alpi e in particolare per i lavori del secondo giorno proprio presso la sede di Skiway Montebianco, opera ingegneristica di grande valore e ribattezzata da alcuni l'ottava meraviglia del mondo, che ben rappresenta il connubio di innovazione, in questo caso ingegneristica e montagna, storia e prospettive future per lo sviluppo economico del nostro territorio. La Valle d'Aosta e tutte le Alpi, e Courmayeur ne è sicuramente una chiara testimonianza, sono detentrici di un patrimonio naturalistico e culturale immenso e diversificato, capace di costituire un'attrattiva unica a livello turistico, ma più generale di essere motore di sviluppo economico dalle eccezionali potenzialità. Le nostre montagne, che in passato hanno rappresentato una barriera fisica verso le altre nazioni, rappresentano anche una cerniera tra i popoli delle Alpi, una possibilità quindi di crescita condivisa con i nostri vicini internazionali, oltre che con le regioni limitrofe italiane. Tuttavia l'ambiente montano, pur essendo un territorio ricco e attrattivo dal punto di vista turistico, naturalistico e storico, presenta innumerevoli sfide, quali ad esempio quella dello spopolamento dei piccoli villaggi di montagna. Anche per contrastare questo fenomeno è nata una nuova concezione dei villaggi rurali, quella degli smart village, promossa dalla Commissione europea quale applicazione di soluzioni innovative nei piccoli centri e nelle aree rurali per garantire l'erogazione dei servizi di base e lo sviluppo economico sostenibile anche, ma non solo, grazie alle nuove tecnologie. In questo evento si tratterà dello sviluppo delle aree alpine e del ripensamento del concetto di villaggio in un mondo interconnesso e tecnologico, sotto le prospettive di Internet e dei servizi digitali, dell'utilizzo efficiente dell'energia, della mobilità sostenibile, senza dimenticare la formazione e l'inclusione sociale, in quanto la componente umana è sempre elemento fondamentale per ogni tipo di cambiamento, in particolare se si tratta della trasformazione dei territori come in questo caso. E questo è un obiettivo strategico di evidente importanza per le regioni alpine, il cui futuro dipenderà sempre di più, negli anni a venire, dall'efficace applicazione di soluzioni innovative a livello di singoli territori e dalla capacità di fare rete tra regioni delle Alpi per veicolare con successo di fronte alle istituzioni europee le esigenze di un territorio che è meraviglioso. Auguro quindi a tutti un buon lavoro e un buon soggiorno in Valle da Rorte.